Sì, comandante, sei venuta a ringraziare? Sì, sì. Il dottor Forson e i disertori sapevano qualcosa? Sì. Il loro ex capo stava lavorando a qualcosa in un laboratorio sottomarino che avrebbe, testuali parole, cambiato per sempre la realtà. Non molto rassicurante. Jarvis ha trovato qualche informazione in più? Sta cercando, ma sembra che l'AIM non voglia far sapere a nessuno cosa stanno combinando là sotto. Probabilmente è per questo che gli scienziati coinvolti vogliono uscirne. L'AIM gli ha intrappolati 20.000 leghe sotto i mari. Voglio entrare e salvarli. Cerchiamo di non morire sott'acqua, d'accordo? Assolutamente. Non ci avevi detto che avremmo avuto una giornata libera? Stai atterrando su una delle poche entrate di superficie per la rete sottomarina dell'AIM. Jarvis deve prendere il controllo dei sistemi di sicurezza dell'AIM in modo che non possano segnalare il nostro arrivo. Pronto per una passeggiata, bello? Immagino intenda in senso metaforico perché non ho alcuna ubicazione fisica. Andiamo a prendere l'ascensore per gli abissi. Mai un giorno di normalità per noi, eh? Sto violando i livelli di sicurezza, ma ci vorrà un po' per raggiungere i controlli dell'ascensore. Nel frattempo tolgo di mezzo questi tizi. Mi spiace ragazzi, ho un ascensore da prendere. Ospite speciale in arrivo. Quell'unità emette un campo di sicurezza NFC. Dovrai eliminarla per accedere all'ascensore. Procedo. Immagino intenda in senso metaforico perché non ho alcuna ubicazione fisica e intanto non posso muovermi. Sì, è ricevuto. Aprite il b... Sì, è ricevuto. Mi gira la testa. Non va bene. Sì, è ricevuto. Sì, è ricevuto. Non l'ho neanche sentito. La ragazza è a terra. Grazie per la visione! La tua sconfitta era inevitabile. 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 Sei grave! Attira il mio potere! Ah! 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 Padre, su! Ascoltami! L'ascensore è ora sotto il nostro corpo. Il corpo è lignato in arrivo. Ehi Jarvis, per quella cosa di cui ti ho parlato? Sì, signorina Romanoff. Di che state parlando? Ok, Jarvis, ripeti al comandante Hill cosa ti ho detto. La sicurezza dell'AIM è più debole sotto il livello del mare. La signorina Romanoff mi ha chiesto di aprire una connessione con la rete interna del laboratorio sottomarino. Perché? Lo vedrai. D'accordo, sono dentro. E ora? Guardie più avanti. Stiamo ricevendo un SOS. Mi sentite? Dobbiamo ritirarci! Ritirarci! Oh mio Dio! Era uno dei nostri scienziati. Sto andando a prenderli. Jarvis, oltre al nostro progetto secondario, cerca cosa potrebbero servire gli vulcani e pressione oceanica. Ricevuto. Chaccia la mia ear! No! Non guardate direttamente nel rancio, bambini! Non guardate direttamente nel rancio! 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 Gli scienziati stanno combattendo dentro il laboratorio Allora facciamo in fretta Bene, anche il top Black Widow, sei tu? Ci serve aiuto Sto arrivando, Dottor Ramos, tenete duro Non credo sia possibile Si vuole coraggio per opporsi ai vostri capi Ma qualcosa mi dice che stavolta il cervello non vincerà sui muscoli Per questo ci hanno chiamato Avvira il mio potere Gli scienziati sono oltre quella porta Continuate a sparare, dobbiamo resistere Non vogliono proprio lasciare andare quegli scienziati Allora non avrebbero dovuto avdestrarli così bene C'è guido Nostraヤ Tornare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi hanno intrappolato. Grazie a tutti. 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 Soccorso!